buonasera a tutti ciao buonasera a tutti quindi questa live è mirata a miscreate che sento la macchina? non lo sto facendo su NTT sto facendo sul mio vabbè ma è uguale cambia porti qua qua di fondo a te Davide se mi autorizzi io trovo più incollo esatto nel New Drawer Prison è anche la sistemazione una comeNE sufficientemente dinheiro ci servirebbe a battere il Candele a Toruccio l'elezione di distribuzione apprezzata che tu sappia è possibile coltivare oggi ha votato a giocato la testa di la parte della propria come vi raggiungo un ragazzo qua c'è un fucile ci devi dire tu con dove sei allora dove possiamo andare a trovare vedo cos'è un edificio ma cazzo c'è un mutante e dove sono gli altri andrea arriva il primo cartello disponibile e dici dove ti trovi che ti manda una macchina? si c'è una strada c'è una strada ma ci sono i mutanti devi prendere l'indicazione no io vorrei entrare per... cosa non me ne spende la carmelo ah se troverò zaino grosso dimmelo ma buona sei tu ora fai dove? sul ponte? si no sul ponte sono io sto vicino al pullman si si ti copro le spalle pure io sono rimasto qua dietro ok ok eccomi io sono proprio meno ho votato ti dico dove non ho votato almeno andiamo a salire salire stavate lottato stavate a meno ho votato tutto è difficile lo è donato lo dicevo si 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 questo qua si sto magazzino tipo aiuto una assata da qua è passato un piccato un piccato eccomi eccomi che vai sulla destra abbiamo un nuovo play mazza ciao mazza ma chi è? è su discord? si 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 qua non li ho fatti qua Se vogliamo iniziare da qua Un'altra gomma, ora vengo Ok, io faccio questo qua Ok, perché c'è qua Non si vede più Aspetta un attimo Mi faccio il ponte, vediamo se è spawnato qualcosa Ho accendato già l'affare Oh, c'è un'altra gomma Vieni, vieni Come si accede al menu? G G di gioco Al pick up dietro c'è un'altra gomma, dai Dai spazio, Ettore Eh, sì, c'ho tre slot Perché E' un'altra gomma E' un'altra gomma E' un'altra gomma E' uno shotgun La gomma la può lasciare, ne ho trovato Posso solo buttarlo? Sì, ne ho trovato l'altra gomma Andiamoci capurante e batteria Allora, quella base di sotto Abbiamo una base di front E poi Mazza sa costruire Quindi andiamo in quella sua Le gomme si sono tutte E questa qua che fa? La lasciamo così? Come? Questa che lo facciamo? Devi Mi sa che si deve rompere tutto O di rompere tutto Sì, sì, è il trattore Mi va in decay Scendi, vieni qua Arrivo Perché se no, mi sa che poi non possiamo costruire Serve solo il diesel Batterie e candele ci sta già In macchina nostra c'è No La candela ce l'ho messa L'olio messa Arriviamo, arriviamo Eh, l'olio ha fatto cinque c'ho messo Ah, se manca batteria Manca batteria L'abbiamo trovata Di se l'abbiamo trovata Vieni qua E' olio A cinghia, cinghia Perciò se Vieni, oh, oh Oh Ti metto in macchina Dove la matta? Eh, ce l'ho d'ora Scusa, non andati via Come? Guarda, andiamo No, 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 la tua, la tua Alla mia salita Guarda, non ti ha dodici Chi non posso Scusa che ti serve Ti serve le munizioni Per i mani da porto La Raffaele Ma l'avete fatta vicino al lago? No, ce l'ho detto Adesso Adesso Ah, ragazza Cattente Perché L'Italia Della maniera C'è la compaglia Avviata Termito Ce l'andiamo Con l'olio E poi vediamo Come si costruisce L'allarghiamo Quella sua Ma se lo Tiamo la Si lo Ma dove si trova Sta base Non lo so Adesso Se lo faccio vedere Non siamo troppo lontani Non ti preoccupare Comunque dovete Tirare su tutti I cartelli rossi Se avete piazzato Cartelli rossi Dovete andare Uno solo E però dobbiamo rompere Tutto Ora ci andiamo Metteremo E andiamo La Cantele quindi Non servono Pigliere Pigliere Ok L'ho messo La batteria Torvati C'è un fucile Qua Aspetta Aspetta Carburante Abbiamo tutto Solo Il carburante Allora Manca La batteria Cinghia Cinghia E olio E ben Olio Tengo La tannica Di olio Benzina Stai in macchina Batteria Ci sta Magari C'è un cable Che è Tov Cable Cable Dopo ti spiego Che cos'è Praticamente è un cavo Per strainarsi I pezzi Di case Più Grandi L'ho trovato Un vecile Aspetta Ero Capito Un'erroba Più potente Praticamente Andiamo Capito Ho sentito Un clacson Esistuto Era L'altro ragazzo Che è montato Su land E' bello Sto land Ma sono fatti Proprio bene Sì stiamo arrivando Il tempo che Aggiustiamo un mezzo Abbiamo trovato un mezzo Grande Vediamo lì Distruggiamo tutta Ce ne andiamo Mangi sta una cinghia Vaffanculo Una cinghia Vieni Mi faccio il giro Lassopra Attendo Che è la vostra cosa Tranquil Tranquil Ho la patente Le dieci Anche Fortunatamente Che abbiamo Un bandro Da te Perché noi abbiamo Cominciato a giocare Da due giorni Non è che abbiamo Il gioco Chi sa da quanto Capito Ma guarda Che non pensare Io pure il salto Cioè nel senso Che ci gioco da solo Però da solo È un po' un suicidio Giocare a questo gioco Perché tante volte Entro Despono Cioè nel senso Evito il reset Della roba Mi faccio un giro In città E poi vado via Perché sennò Trovi solamente Gente ostile Cioè Te l'ho detto L'altra volta Ogni tanto Ci provi Si fottono Dicevo Quello dentro La stazione di polizia Gli ho alzato le mani Gli ho detto Stai tranquillo Non ti sparo In inglese Fai il cazzo Che ti pare Io faccio il cazzo Che mi pare Mi ha detto Va bene Sì ok Si è girato Dio caro Non ho fatto il tempo A girare il muro Che mi ha sparato Mi sono girato L'ho seccato Basta Ho trovato la pistola Carmine Hai spazio? Noi Non abbiamo niente da perdere Nel senso che Abbiamo cominciato a giocare Ieri per oggi Quindi Si Poi Infatti ti dico Solitamente non c'è Tutta questa gente Adesso si arriva A 17 persone Ma non è un server Così pieno Eh ma mi sa Che adesso Vedendo questo numerico Perché noi Siamo questi qua Ma manca nessuno Siamo tutti Noi E altri due player Ci mancano a noi Quindi Lo prendiamo un peperino Questo server Che noi questo di qua 6 minuti qua Sai perché? Per imparare Questa macchina Carmina Però Vogliamo trovare Un'altra macchina Non mancano le gomme Però Vedi se sta la cinghia dentro Vedi se sta la cinghia C'è la rubiamo da qua Come si guarda L'equipallimento La macchina Poi noi giochiamo pure A Non alla cinghia Non alla cinghia Giochiamo sempre A Da vicino A Congini Congini Ragai ho preso un po' di cose Però è buona sta macchina Buono Eh la scelta Abbiamo Da una grafica pauroso Su giorno Proprio Eh si è basato sul motore Di arma Siamo infatti già i colpi Sanag Sono quelli di arma Che noi abbiamo giocato A Già survival Quindi Nemmeno quello Io ti dico Guarda Io e gli amici miei Siamo giocatori incalliti Di pubg Ok Ottimo Ottimo Anche noi Però siamo a livello schiappetta Ma sempre scarsi siamo E non è che C'è Quanti giochi che facciamo È il settimo in Italia Amici Ma il lire o il negro? Trovata la cinghia Arriviamo Ok Hai trovato la cinghia? Dove sei Andrea? C'è un mutante sotto di me Allora Fai una cosa Devi capire Devi capire Andrea Dove In quale città ti trovi Perché noi Dobbiamo andare A fare una commissione A prendere il mio fratello E poi veniamo a prendere a te Capito? Sono bloccato sul tetto Di un Di un Di un Di un Sì Andiamo Lunga una strada Ok Allora Continuo questa strada Fotti dire del mutante Non posso muovermi? Il mutante non mi permetto Di scendere dal tetto Funci Funci Armato Sono armato Se non fai rumore Tiro le pietre Ascolta Ascolta Minchia quello grosso Rosso allora no Perché c'è un aggiornamento Che hanno fatto Basta che mi nascondi O fai poco rumore I mutanti non ti Non ti sgavano Sennò prima ti aggravano Proprio Come entravi nel circuito Madonna Carmine Sali Sali Mi hai devastato C'ho 10 di vita Bento Bento Mi sono Bento Deve rompere Il cazzo Di Minchia Mente Vastato Garb Mi ha Vestito Oh dai Spicciamoci Dobbiamo andare a rompere La base Runa ancora La base Con le quattro cose Abbiamo fatto Poi guarda Ti faccio vedere Anche un'altra cosa Vedi Stato Qua Dovresti avercelato Sul crafting No Questa Non lo so Se tu la accendi Tu la vedi La luce O vedi solo Il rosso Non lo so Non ho mai accesa La torcia Io ce l'ho accesa In mano Tu vedi la luce No Vedo dei puntini rossi Se mi avvicino Però altrimenti Io invece vedo la luce Quindi gli altri player Non vedono la luce Ma vedono solo Il puntino rosso Quindi è più difficile Vederti Capito Lascia Le pile Perché le pile Fanno una luce Della madonna Che ti vedono A 20 km di distanza Tutti i crafti Questa Che ancora Buggatano L'hanno risolto E poi andare in giro Con la luce Capito Senza aver paura Che la gente riveda Ah ok Grazie della dritta Quanto dura Quanto dura Questa torcia Adesso si la veda Vedi puntini Eh vedi puntini Ma non vedi la luce Capito Prova che a startela Praticamente Si fa con un pezzetto Di ramo E una bottiglia Di olio Ah ok Mi manca Sia il ramo Che l'olio Grazie del consiglio Quanto dura È infinita Ah Quindi posso fare Mettele Le remette E lei Si 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 E a livello Possibilità Ciò di C'è lo zomica Un piccone Quello grosso Scapa Quello grosso Scapa Grossissimo Non è Normali Tipo quello Spellato Quello con la mancina Tre colpi Tre quattro colpi Lo butti giù Un attimo Mi sono persi Dimmi un buona cosa Come faccio Tu sei venuto D'altra parte Una maglietta E un paio De qua Allora Faccio A togliere La radioattività Radiattività La togli con le pillole Le ho date due A qualcuno Prima Con le pillole Cioè quelle semplici Quelle tipo aspirina No Ti dico Dove ti ho visto Che va Qui dentro Le pillole Antiradiazioni Si chiamano Pillole antirazzo Ascolta Mi sa che io Ce le ho No Non ce ne ho bugie Simile all'aspirina Ma non è aspirina Continua dritto L'aspirina serve Per quando ti prende Il Il Che ne so che caschi Oppure stai Frastornato Ti prendi Quella E piano piano Le settorie Come si corre Ebbene Contro Di Secondo Uno Uno Come si Prende È un po' Una merda Il Esame Allora Erra Metto Ti serve Ova In giro Per i Gespugli E premi Pienesodi Dice Raccogli Lo Stick Ogni Tanto Dice Stick Stick Non Sempre Dipende Dove Sei Oppure Prendi Un'accetta E sbatti Contro Un'albero E ti dai Good Log La cavalleria Hai paura Di Mandini A due Ma Hai paura Di Mandini Di O Presi Sono Scaff Di Sono A Per Cento Mi C'è Dell'olio Se vi Manca Molto Slog Il Rilogo Perali Non Stiamo Bene A Bolsini Ad Anacciarci Oh Che c'era Carmina Che era Quello La C'era Uno Dietro C'era Uno Dei Nostri Io Lo So Vediamo Se Andiamo Pia Manicina Se Andiamo A Prendere A Lui Andiamo A Romper Le Cose Problema Siamo Tre Gi No Abbiamo Due Macchine Altre Due Macchine Abbiamo Occhio 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 Attende Anche con le Macchine Cerca di tenere Le luci spente Perché si vedono Da chilometri Di distanza A posto Ok Chiano Zeno Nessuno Ah c'è la batteria E' una Un'auto Mettendo In moto E andiamo A rompere La base Così Diamo Pure Mangiare All'ultimo Reagiscono E' veloci Veloci Raga Che sto Per morire Ok Quelle Se Macchina In Uno Spazio Per Prendere Fai Vieni Con Mettimi Fu Mettimi Fu Da Vito La Macchina Minchia Ce ne Sono Due C'è Uno Grosso Mettimi Fu L'Esta In Macchina Ok Non lo posso Piggiare Allo spazio Vediamo se ce lo posso Prendere No M A C'è Piggiare Serve A Benzina A Tantani Un altro Survivor C'è La batteria Dove La Metto Sempre Sulla Veicolo Sulla Svot Allora La Benzina In Messa Apposto Ok Vieni Con me Riprendermi L'arma Vai Vai A me Serverebbe Tipo Lo Zeno Grosso Un Fotti Di Cose Lo Zeno Non Vanno Sul Coso Vado Con Mazzo Bello Facciamo Sto Con Voglio Te Che Siamo Cattivi Zeno Su Sia Nel Range Rover No Sì Sì Chi è che sta guidando sta macchina Presque A Sì Tu Davide Non so con chi sto andando Sì 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 È vero Stando in drifte il furgone Buonasera Ciao Emilio Emilio Mazzo Mi devo preoccupare Attendo a te la lunghezza Ma Emilio Di certo Non lo so Ma È Che hai deciso di non giocare più con noi Ma Perché Ma Io Posso Sparangapo Ci chiede Sì Ma Come ti bussa Novità 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 Ma Non muoio Ma Trano Di solito Le persone Le stili Se le prendi sotto Ma Come si bussa Con il crackson Ma Per caso Era Quello che facevi Segnare Infatti Carme Dove Minchia Si è finito Io Comunque La radio È al capricciante La notte Oh Io sto con il furgone Raga Mi è uscito Mi è uscito La pallata Che sta per E corre E' uno zombie Ci siete Aspetta Ragami Disconnesso Mi è disconnesso Sto rentrando Veri che l'ha stirato Carmi Ah di qua Aspetta mazzani Aspetta La testa Rentrando Stai Noi Ma ridono Aspetta Non stai Macchina Con me Dove stai No ma Perché mi è uscito Dalle server Non so Per Aspetti A collore Io devo andare Da Luca Che sta a morire Sono il nostro pochino E cibo E cibo Luca Sì A posto A radio Che c'è uno stronzo Che parla No Tu hai parlato Allora Vai che stai Allora Eh aspetta Solentrano Ma li prendi Da te Non so Perché mi è uscito Vabbè È l'alimentare Della macchina Devo forza a scendere Per cento Ti vedo Ti vedo Ti vedo Ti vedo Ok Sento una macchina Che sta Sì 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 Oddio Santo No no Vieni Vieni Fa paura Non mi sono perso Luca Ma andrà Mi band Luca No band Ma che sta Luca Ma senti la mano Sì Che da combinare Fermo 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 Polizia Fermo L'imbaro Sta a base Prego Eh ma devo facerle come Con che Con cosa arrivo Sì ma che l'hai creato C'è ma non c'è fan va niente A po' Giuseppe Ah non ci serve più Dove te mi devi invitare Il clan Ok a posto Qua qua Dominica Stavo Mi ricordo Senti Cominciò Qua qua Sta qua Oh senta Quella acqua Acqua Salite in macchina Salite in macchina Venga fischiato Salite in macchina Io io Salite in macchina Salite in macchina Raffaele Uh E' un altro Sto cosa Ma dove cazzo la trovate Ehi team Comunque deve andare sempre Qua in diagonale Sì sì Ah sale Stai meglio Sì sì Ma dove l'hai trovato Ma devo salire Ma devo salire Senza Ciccina Assisi Invece guardi che ho trovato Ciao Ma che è il mio lupo Aio Sì sì Un bella R Perfetto Ma scendete E rompiamo tutto O rompiamo tutto O ci portiamo tutto Io ce l'accetta Io ce l'accetta Non serve l'accetta Basta che tu ci vai sopra Con la rotella E qui dice Dismiss Devi mettere il clonato Scusami Però se riusciamo a postarci Un'altra cosa Un'altra cosa Un'altra cosa Un'altra cosa Un'altra cosa Grazie Ascoltate un'altra cosa Attenzione a levare le parti Perché una volta a me mi ci ha inculato Ero carico di roba E sono stato un coglione Praticamente rimettendo la macchina Dentro il garage Ho tolto primo a muro sotto Invece di togliere prima quello sopra E quello sopra ma schiacciato Quindi Anche questa Quando smontate le cose Fate attenzione Perché Ragazzi le cose Portiamocele Così la possiamo riciclare Il mezzo Non fate rompere Mi raccomando Dove sarà Ok Io so sparato D'altra parte Non lo so Ma perché sei morto Eh sì Qualcuno Qualcuno mi ha tolto La pedanata sotto i piedi Vabbò Aia Manco ho fatto il tempo a dirlo Non c'è Lutto E cosa che parte Yes Quanti è questo sdraiato Aspetta 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 Allora calma Fino a che non abbiamo Tipo 5-6 minuti di tempo Prima che sparisce il cavale Dove sei morto Allora io sono Qua sul campo Qualcuno lo lutta Desce Scompare il corpo E non luttatelo Allora io sono qua Sono praticamente Tra Brink E Clyde Hill Bright Non sei proprio vicino Allora mi sa Che fai Il Lamp Perché Cazzo Proprio Allora Ascolta Fammi vedere Che cosa Prendete che ne so Prendetegli le armi Prendetegli le cose Cerchiamo le portaglie Almeno quello Lo zaino Tanto lo recuperi Sì Mettetele Dentro le macchine Davide Aspetta Un attimo A clano Dove sei Sono vicino Il furgone Quale sei Lo saltellando So saltellando Ragazzi Recuperate altre cose Sul corpo Cosa c'è Prima che scompa Recuperò lo zaino Recuperò lo zaino O zaino Vedi che io Lo zaino Lo zaino Non so se ce la fai A prenderglielo Perché dovresti toglierti Fatta Sì sì No ce la faccio Ce la faccio Aspetta Non toccate niente Se facciamo la base Vicino alla mia Su a nord Ci mettiamo un'ora E abbiamo giubbetti Di proiettile Helmi Armi Perché C'è lassù C'è la stazione Di polizia Noi ci vogliamo Chiudere Così parcheggiamo Ste macchine In garage Capito Abbiamo Le casche E ci possiamo Perché noi Noi lo ultiamo Poco a mamma Ammassa Vabbò raga Non lo so Che c'è Che dobbiamo C'è Dover Cazzo Dove andare Non so Un cazzo Provo andarlo A riprendere Dai Le macchine Vado col furgone Con la macchina Che magari Prova Prova Mi sentite Una cosa Che a me Non ci va Con mazza E vado A prendere Posso Andavuri A me Mi E' un frugone Di Quella mia Quella Allora Fammi vedere Un attimo Quanta benzina Ciò Perché dovrei Anche iniziare A pensare A bere Allora 74 Ci sto Allora Poi Un'altra cosa Tanto che Cosa Che costruzioni C'avete C'è Una piantana Una cosa Siamo In 246 Ce la facciamo Rifalle Dai Calate giù Tutto Prendi Il plot E andiamo Verso Nord Perché Clyde Dovrebbe Stare Verso Nord In alto A destra Ringmore Venite Va a prendere A Ringmore Ok Ringmore Ok Ci muoviamo Tutti Se ci muoviamo Tutti Io gli Fugo Andrea Scusa Dove sei Sono in una casa E sto cercando Qualcosa Da mangiare O qualcosa Mi devi dire Dove ti trovi Per un cartello Ok Ok Brightmore Brightmore Ok Dopo prendiamo L'highway Ok Vado a prendere Cosa L'uomo Adesta L'uomo E detto Brinkmore Brightmore Tiene Un'altra porta Di mano In gioco In gioco Non la posso Vedere Ah beh Io magari Nel frattempo Luto E Tutto L'abbiamo Preso Spogliate Tutto L'abbiamo Preso Il cartello Il cartello Tiralo su Esatto E forse Troverà Tutto Eccola Allora Dove siamo Noi A Ritmo Eh Vabbè Lunga La strada Lunga Lunga La strada Principale A destra Devi prendere Che è Sta Cosa Ci fa Gas Giusto Giusto Cambi La macchina Dall'acqua E' finita Mi atta Fuora Non so Perché Mi butta Fuora Oh no Dai Ranguilli Oh no Ti ho buttato Fuori Davide Si Mi ha buttato A me Prima Pura Non so Perché Non manco Io Tanto ci fa Ragazzi E' pieno De bug Su gioco Apposta E' Io Prima Sono In un Oceano Poi Io Solo Gato O Rilogato E gli Zombi Mi Stavano Uccidendo Non capisco Ave capitato Anche A meno Un paio Di Volte Dopo Come Da Stai Vai Per Sultano Si Vai Ok Adesso Aspetta Che Vai E' Tanto Aspetta Lui Perché Sono Sta Fermo Stai a bordo Che è tuo figlio La fa Sì Sali a bordo Sali a bordo Sali a bordo Sali a bordo Cazzo Comandante Sali a bordo Sali a bordo Sali a bordo Cavorare Poi c'è Sali a bordo Ma lei dov'è Io sono Ma lei dov'è Sali a bordo Cazzo Ma io sono andato Un attimo Sali a bordo Sali a bordo Sali a bordo Sali a bordo Comunque dobbiamo passare Sali a bordo Ma come si mette In modo la macchina R R Ah Pede Fisch E M Fisch I tasti Pure Me li sono spostati Me li sono messi Sali a Pagni Salute Tua Pene Mella Più Intuitiva Si Pene Mella Salute Tua luca mi ricordi il nome del paese grazie brittmo brittmo grazie se te l'ho detto quando il giardino c'è un'occasione ma la pistola non si prende però aspetta che c'ho spazio però stai scritto che dobbiamo distruggere tutto per togliere la base si aspetta può essere che lo posso rompere aspettano per favore che c'è una base al post ok questa è la mia vita perciò questa cosa ma perchè mi tira le pietre se la minchia acqua ok ma se non ci sputo mamma mia come si rompe una cassa lo sai ah non te lo fa tirare su il plot scusa una volta che hai tolto tutto dovrebbe dare la possibilità a tirare sul plot e la casa sto morendo di nuovo ah la cassa no la cassa a appunto e si poter tirare su comunque sia mi pare apposto ne preoccupa 4 devi stai niente questo coso aspetta 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 si si sa e finissero in un modo ehm ehm perfetto ora ho l'ho 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 non c'è una l'aria e' mo? no ti dico no non lo rompono e quello e dico è che non l'ho 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 scenderemo a un video che è successo ah non è una macchina con tutto e quattro gomme dalla ma siamo più mo' come una fotografia ma no cosa vuoi domani l'ho 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 appunto lo superio parola secondo me scendete l'ho spostata dai messi la poi la poi spingere la puoi spingere la macchina è bello che il fondo della macchina al mezzo alle appoggio sulla pietra e tutte 4 le gomme sollevate altre macchie spingerla aspettiamo allora ora accendiamo bene ora io secondo me ma che è scoperto la proposta bene spingo da dirlo o no devo andare un attimo a bere il giugno il fiume anche se il mezzo è grande aspetta porta porta anche a me cammina sì oppure faccio dire ma direttamente verso cosa fai darmi la possibilità di bere drink water più sembrano delle radiazioni e vabbè è vero marchi manco una scelta ora è scelta otto da se che così però non si parla e scendere scendere ma anche in modo però ok la camera è allontano due minuti sei in macchina perfetto no la prima chissà era un po' così perfetto ok fatto devo qua dentro ma fangolo è come si fa troppo ma io sono mo' 8 vai 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 domando pazzon la fara eser cccino pei sarete curfini perché non muovono sono troppo esanusto per saltare esperto state il caso di campagna tu senti la sua armatura giocare successo non c'era a fare giocavo giocavo più che altro sul ha fatto campagna e tutorial non ho fatto mai online ma c'erano quasi 900 rapporto fatto artis life un po ex il lo giocavo da quando era operation flash point ancora perché mi è sempre ricordo ma lui è morto devo vedere un cartello che sono a pincere questo anche direi di visto che noi siamo tre intanto andiamo verso su perché dovrei anche pensare a trovare un po di cibo io sì ok dai non c'erano tutto come a esatto chiudiamo almeno un mezzo così almeno siamo sicuri con mezzo ce l'abbiamo lo faccio a casa mia poi ci muoviamo con quell'altro il cartello l'hai tirato su tu sì sì l'ho tirato su e possiamo vedere l'inventario esatto perfetto così siamo a posto che allora chi sa la strada vada verso vudeven un'altra volta ti seguiamo a ruota ma che non è stata ancora non abbiamo mi trovo via tanto da verità dobbiamo ritornare dove eravamo prima ok allora scollina e poi va tutto asinno come sono vabbè si riscaldare senza ruota no ma si può prendere la macchina non si può prendere aspetta no 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 che si ha di una scuola ma che ti dice mangiare no destra ero buono e poi ci manca chiuso anche tu vai veloce con questa macchina rota a me che almeno si può fa noi la macchina mi ricorda apposta ma deve riscaldare solo dove sta ok raffaele vai piano e piano si scivola fare si scivola perché sono un ponte c'è una fattoria con una specie di misa che sei pure pure vicino andrea tu non hai capito ancora dove sei no ok mi trovo mi trovo in una pista non c'è una pista d'olio con il suo volo metto sulla costa allora vediamo e fermo un attimo qua perchè vedo se la stanza sulla nella vista di go kart possibile la vostra giacqua e spegne e qua c'è una macchina mazzapurro se ne vogliamo le cura notte andiamo a allutare un poco stiamo assieme raffaele se c'è una cosa c'è una cosa è pagata candele ho trovate candele la borraccia sono su un ponte chiuso ragazzi manca la cinghiera la cinghiera c'è due di olio qua e tre notti la possiglia ma non si che ci vuole mettere la bambina una allora lo guarda lo guarda lo guarda eh ti no d'ora bring more clean the aisle vado vado adesso bring more bring more metto l'olio in macchina sarà appingere stagione raffaello e fai che non ti ha visto che a guarda che è che sta vicino a me io questo caso quando vieni tu clicchi sulla sulla cosa sulla stazione del bus riprendi la mappure che muro tenistra che figata però diciamo che noi ce la siamo stampata chi era spara io 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 no no i colpi ce li ho grazie a dio ancora una sessuale sono poi all'incrocio li sei craftare colpi ragazzi sulla io abito te l'ho detto ho fatto casa lì vicino quando non c'è nessuno tipo che ne so verso le 10 di sera le 11 di sera che potrebbe essere vuoto apri la cina mette a bottiglietti sull'acqua se avete preso dell'acqua se la stazione pulizia e mi giva sulle mentale prendo l'acqua e poi va bene ma come la beve tasto destro consume ring con su comunque c'è una 15 c'era fa 15 nafta dove sono io dove sei tu dove abbiamo parcheggiato sono alla finestra ecco ti io ti vedo ti vedo vedo qualcuno forse mazza per favore sono arrivati da stai luca brinkmore mi riconosci te lo so che ho detto che proiettile aspetta pure io perchè forse sono la parte opposta della città capito apposta e la cartella ho bevuto brinkmore prendiamo la laffetta ti prendi il fucino non lo so eh il fucine mi serve ecco ti ecco ti ecco ti vieni vieni c'è una chitarra c'è una chitarra ti devi mettere su noi ti posso andare a che te la mozza un attimo, raga davide 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 ah non c'ho spazzo ho recuperato lo devo venire devi venire a wood vieni a che vieni a raffaella non lo vediamo recuperà raffaella io tengo a 3 già sono piena no raffaella scuola voglio un mostro mostro che è a tre ah dietro di ok ok l'università se me lo faccio con il mille aspetta 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 lo faccio nebo da vendere andate andate se capisce ma rossa davide la giversa qua qua fermati stamattina tenere che la maglietta rosa no era tanto bello deciso perché le gambe più questo diretta è un manco come caca viene il dove c'è il mezzo viene da fare questa è quella la fattoria che ti gioca ok 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 io ti vedi io ti vedi vieni guarda mi vedi vieni vieni parco di minchia chi è che risparmio ok cara fa vieni qua c'è stato coso motivo il caricatore eh ma insomma domanda come ne tenere la vostra le spalline da fuoco oppure la felpa io cazzo stanno un sacco di colpi ma non è morito memoria come fai a correre così veloce devo buttare qualcosa come fai a correre così veloce la pila in mano vabbè è cazzo come fai così no con la pila così no e muori dio caro ma non cazzo vabbè ho le spalline da football americano le mettono nella macchia le perché vieni qua vieni qua questa pesa 4 kg e 60 l'ha trovato ho trovato questo mettiti io c'ho 26 kg e non posso portare perché non la prende con 26 kg quello che c'è spazio eccello di un chilo ma non puoi craftare questo ma io a prendere tu che c'è spazio adesso cosa la non lo so che cerca mi sa la benzina sta tirando su dentro il supermercato no ma qua sono un supermercato perchè ci siamo cappottatico almeno no no lag lag ho un effetto l'effetto così allora qua siamo sì dentro supermercato ragione il logger come si aprono mazzò non si aprono li puoi ispezionare ho trovato il cartello che c'è scritto e invece il cibo questa qua tipo la mela come si fa si vuole quello ci puoi fare le trappole col veleno oppure tra mangiare vieni da prendere stanotte dove sei dove ti sto dicendo prima dove c'è il mezzo facciamo come marquez andrea l'uscita lo sarebbe un nome grosso questo qui ne c'erreste ce l'avete lo spazio voi no allora vieni qua e poi andiamo a prenderlo ci sono un altro po che è grossa sta città ok sei tu etore a te per me fuori qua vieni in questa stanza e prenditi per favore non affeda che quella è l'infa vitale po toglie luce spazio un player aspetta che scoppio mezzo o ma torino siete voi si no no come no vai di vai ieri vai ieri vai di ieri vengono ammirini ma non è vero uscì finitela non fate straminata avete roba nel mare ma così ciao fratà ma non si può fare non mi parecchi dalle palle mi dicevi dove stai? per la benzina? l'hai tirata su? no perchè non c'ho spazio uff o dritto qual'è? no dritto questo questo qua è dritto no dritto dirla sempre dimmi vedere questa la benzina ah qua qua questa qua oh che è questo? è morto te l'ho detto io che era questo raffaele ma dove raffaele che cazzo è sbagliato? stai tornando indietro ah 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 uritto e kiss uritto va va arriva 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 ho sentito rumore qua ah 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 cinque chili minchia che bella grossa ma non parecchio poco tempo a piede come facciamo una cosa facciamo una cosa la facciamo andare a prendere a princeleste andiamo a prendere a Andrea prendiamo mezzo andiamo a vunevid a vunevid a princelest a prendere a lui mazza ci viene dietro meglio dove è stato è essenziale che tiriamo su quelle tani che ripetere mettiamo dentro il pallino dentro la macchina partire ancora come facciamo guarda cerca di appoggiare se c'è spazio dentro il furgone cerca di appoggiarci le armi il giallo è più a tappo niente c'è a drift o calmero balla aspetta forse una della faccia tirare su non mi si è aspettata stiamo arrivando siamo a pochi metri ok ok ce l'ho ce l'ho termina mischia tenere a farlo fai fai giurata ok è uno spazio vuoto sul mezzo c'è ok me la mettere dove va a prendere un'altra dove ci dobbiamo vedere perché siamo arrivati noi la mettiamo dire davanti centro commerciale dove c'è centro commerciale avuta bene giusto c'è diciamo model allo secondo piano andiamo a prendere l'altra la cazzo che andiamo a faccio noi siamo noi ma non so c'è la cazzo vendere commerciale ti sento comunque non sei tanto lontano ecco ti cammina cammina cucina del mentore eri eri affacciato ho visto il culo del mezzo hai visto il culo del mezzo la cazzo è stato hai girato no si non dovevo girare no forse che sono le cartelle luminose ah motel c'è scritto motel ragazzo andatela dai mollo questo viene 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 aspetta forse c'è colpi per quel fucile eh eh fucile a pompa eh e 12 ga no per 12 si aspettatene lo butto a terra e sì ora sai che devi fa in casa sono arrivati in napoli e controllo e benzina si controlla si controlla l'olio si controlla l'olio si controlla chissà ridate la roba quello che è morto poi ho visto olio 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 guarda in tutti i mezzi dove dove luca qua io quello nudo davide di me olio 83% fuori se ci piglia andrea stava mtc che si è andata a facciare una foto sono andata prendo io aspetto nuova aspetta che non trovo la macchina tu dove è stava l'altra parte davanti a raffaele si prendo una cosa di benzina che basta che hai raccolto sì l'altro dove l'uomo il casco anche l'abbiamo messa direttamente dentro un casco ce l'ho io ok perché abbiamo il meglio che al 50 per cento un voluto il casco un uomo l'uomo luca tre figlio questo l'ha preso l'ha preso c'è lei un'arma sì c'era il arma però penso senza colpi colpia di chi devo sapere raga cacca bacocco questo con il doppetto di proiettile tu non ce la facciamo a prendere la benzina anche allora che viene con me vado a prendere andrea voi andate con un mazzo io ho tre posti liberi in macchina ok voglio trattare bene il furgone devi fare strada io senza l'armi a breve l'inventario della macchina e prenditi il fuggita pompa mio a pincere sto devo andare andrea pincere sei pincere stasì allora voglia che non senta l'ottocento settore così mi ricordo come cazzo di a l'ultimo in basso a destra dovrebbe essere la pompa ok i colpi io non ci sono però sì 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 dovrebbe essere 10 ok dopo poi l'armatura poi ma la rifà o dove andiamo ma il fuoco il noviano mazza nella base di mazza che ci offre ospitalità migliori trattante chi piglia il furgone numero tratti bene grazie parla cura raffaele già sa so guidani apposta figure world 2 stanno a posto non si termina sul tema di raffaele fermate 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 indietro come un quartello adesso possiamo tagliare di qua vai dai dritto aspetta non è che ci sta qualcosa vado sempre dritto andrea super giù tu sei fermo stai aspettando stai camminando come sei combinato non dimuovere stai cercando qualcosa da mangiare o da bere ok non dimuovere non dimuovere fatti la faragnare faragnare devo devo fare una cosa fai salire pure questo andrea raccogli il cibo che siamo raffaele meme ma raffaele hai spietato carmageddon lo chiamavano bellissima anche un altro paio di comandi c'è la chat no se tu premi in vivo premi e scrivi punto esclamativo pop ti dice quante persone stanno giocando nel server ed è utile questo 15 di 50 a me quando diciamo noi e noi siamo sette dato a me già ci sarà e mo mo ga meno volendo dritto che tu racconto sul tono ok qual è un axon invece con le ricette per castarli e no vero no 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 i colpi dell'idea salvo nella modessa modena dritto ok tra un po di zogna e visto di farai visto che almeno la solita ma fatta a pede cosa ma un po più di persone guardo qua perché rispondano in grado di mai come passa il blocco passa il blocco vincere scritto per migliori che lì sweet subetti proiettile di solito ma dov'è qua si militari vedi qua c'è una veste due che stai il ragazzo che non parlare su questo che ha morto prima dove l'avessimo luca 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 scusa qua ragazzi eravamo pagato che era 22 per acquisto faccia un bucce qua c'è nato con queste 10 porti in mezzo preciso al centro di piccio cazzo spazio negli inventari ora ragazzi ragazzi ora io devo prendere andrea e dobbiamo comunicare fatemi un po di gente che è rita ma c'è che io rita ma c'è che io rinvento mazza e spieghi come devo fare quella cosa la avranno spazio a torcia ma la torcia l'ho trovata io se la vuoi no un'altra cosa allora ha scusatemi un attimo scusato la macchina aspetta c'è un po di legno c'è un pezzo che mi dici come è fatta la casa a torna casa dove stanno le dici dove stai ma io non vengo la magia mannaggia ma sono delle sandberg io mi trovo il maglietto e da tutto ma non è tutto non posso pigliare sta cazzo di cosa perché andrea aspetta aspetta adesso adesso prova adesso prova adesso prova adesso si venga però se c'è roba dentro non lo puoi prendere tra quello dentro un pezzo di roccia fermati fermati una paghi l'ho vista stai andando alla parte opposta ragazzi un fulmine ha scaricato sotto a casa mia fermi 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 né but non Mi sembra che non mi pare no non si chiama voi la maglietta verde di te che è morto prima I o plus no luca e sul governo sono dei contorani cardo queste saranno più spazio ma per favore migranti quando girata prafferato la moltig pena ma lo uccido dietro di te si 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 ti preoccupa ti preoccupa aspetta la maglietta che sono una peglice sale 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 con la F con la F no qualcuno mi ha scavati i pantaloni no io mi sono presa la maglia verde tua oh sarò a te da qua black jeans no jeans, il cargo no eh no dai vedo vedi tu o vedi io va 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 allora raga chi è che si è pezzi ma io sono andrea dove dobbiamo andare dove dobbiamo andare luca sei mutando no indietro indietro mi ha fatto qualcuno mi si è fatto di ma hai sempre detto così? ritorno a sultan quindi sono avvelenato al 70% no controllate noi come si è avvelenato al 70%? eh no tu muori in macchina non so no no è fisso al 70% oh raga con voi volontariamente se è presso dei pantaloni no io no ragazzi lo io non l'ate scendi un attimo andrei scendere un attimo andrei io controllate non ce le ho non è che da vedere no più di questa terra sbaglio in bende poi no io ne ho io sono andato con la sua un po' quando trovi ieri come è che il giro sto test giro a posto ora non c'è tanto adesso quello appoggiare ragazzi parti la mano ma ora non mi aspetta spettacchi ok non è che da parte che pari a capo c'è la roba contro il giugno quando ora non lo prende con la con il casco in testa per quello dare il mio amore non è un'altra cosa se tu se non lo so io vedo il giubbetto blu altre due volte è bello non mi ha dorato aspetta aspetta perchè non mi fa prendere oh io salgo dietro perchè mi ha detto che mi ha detto qualcosa da non giare le devi mettere sul codo le devi armare andiamo 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 aspetta aspetta fammi buttare una mazza chi è sto corno no la mazza no la mazza perchè la mazza non si saurisce si ma ne ho due adesso c'ho arco frecce e aspetta che devo anche ci sto mettendo l'olio ok 100% allora dove siete voi sai come si ah ho una granata vinceresti stiamo arrivando a sultan e da sultan ne veniamo di nuovo che ci vediamo che ci vediamo a sultan devi proseguire verso verso vteven devi uscire dalla città devi sempre andare dritto andrea 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 che è la benzina qua la benzina costa siamo senza benzina dai ma la ci siete saliti sopra quell'altra torre via e niente non c'è niente no no andiamo andiamo via andiamo furgone e poi sono zaino che è stata che tu hai scelito furgone prendermi in pagare con gps co a pezzo raffaele mazza raffaele raffaele prendi il furgone io oh raffaele non mi aspetta a te ma scusa ero stato beh no c'è nonna io no non fate casino siamo assente io che sto guidando io sto guidando andrea come e che io mi giusto aspetta 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 ragazzi che sto perdendo vita liveba guarda mia nuova è davvero mio amico ragazzi che non possiamo stupido ma ajuda ragazzi sto fuggi fuggi che lascia è cro no faccio Ma chi cazzo l'ha dato brutto di coglione? Gli ho dato io perchè lei non si è morto, te lo ho detto Non si fa curare Carmino com'è? Eh ma è ma cicchino, lui ha già fatto male Lui è troppato buono questo, condi, condi, condi Ci fanno il copro, condi Ma come fa a sparare? Fucire invece siamo Ho capito Lo cortiamo a mare, lo cortiamo a mare Non vuol dire che sai come ho No, 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 vai tranquillo Prendete le armi, prendete le armi Mettetele entro il furgone Almeno le armi Oh che è sta? Raffaele, chi è tu? Io aspetta, aspetta Devi buttare, se non te le fa prendere Ragazzi, preparatevi, preparatevi con le armi Raffaele è morto Non sono morto io Come vale in questo momento? Avete ucciso... chi è che ha dato il pugno? Si, ci ha dato il pugno, però io stai facendo bandage player Si è mosso, papapam, ci ha dato il pugno Mi raccontami Ci ha dato il pugno, vabbè Ma che è molto lunga, no? Ma che facevi troppo bordello quando parla Ma perchè fate cose? Non lo so io, boh Perchè non state tranquilli A dritto? Si Ma va Mi state facendo ricordare i tempi brutti H1 Ma se fai bordello è normale, scusate Ma se lui ha luco, sto prendendo sangue, sto bene e si muove A me niente pazzo bene, no? Ti ripeto Eh Ci ha dato il pugno Ma che è il pugno Ma che è il pugno? Che è il pugno? 256, capo, pure a te Buono, buono, allora dai, ho tirato su la roba, gliela tengo io a lui Dai, ti seguo con il furgono I cadaveri si possono ispezionare Ma è apposta, a destra? Sì No, ma è a base, ok sei bravo Ti ho porto camion, poi ti paridisce Porto io, porto io Ti devi curare e camminando No, ma sono qua camminando e camminando Ok, ah qua ti puoi curare camminando Sì, sì Sì Aspetta, ci vuole qualcuno un attimo? Aspetta, faccio così Ma che ti dico qualcosa? No, devo mettere dentro, aspetta, devo mettere dentro il fucile per i ragazzi Qui ti mando in un cocktail, eh? Ci sono un bagnì No, il fucile per i ragazzi Che stai legando o la fai schifo qui? Eh? Stai legando? Ah, sì Guarda, io non ce l'ho capito Chi si muove nella camminando? Dopo Dopo il ponte dobbiamo andare I due ponti Sì, ho sbagliato io Ma dove stiamo andando? Aspetta, aspetta, mazza, chi è che deve salire là? Ah, ci siamo, dovremmo esserci Ok Dove ci siamo incontrati? Ho bisogno di cibo Ah Andiamo a lootare, facciamo qualcosa Però devo andare a mangiare Guarda, c'è una casa Allora, ci sono delle macchine Andiamo a cercare qua Eh, le luci come si accendono, mazza? L L Pro macchina L Ok Ok Trovate cibo qua Sei già alla città Irlande? Io la chiamo così Alla città Irlande Non c'è andare vicino Non c'è andare vicino Ora lascia di lontano Siamo arrivati Dimmi del tutto Come si è bloccato Sono otto No, non siamo arrivati A posto Marcaputtana Sono morto Perché sei morto? Eh Perché sei morto? No, non c'è No, non c'è molto Cazzo Si sta andando Andiamo Aspettando Trovato No L'avete trovato cibo Ok, continuate a cercarlo Perché qua dovrebbe esserci Guarda qua c'è una lattina Di qualcosa Qua Dove vai Davide? Eh, sto perdendo tempo Perché devo spettaccare Menucci Perché Si è giusto il gioco Si è giocano E dobbiamo andare Nello stesso tempo A incontrarci con gli altri E la macchina la lascia nulla Si si lascia Ma non c'è Non c'è Non c'è Non c'è Perché Ragazzi Io lascio un pompo a terra Perché ho trovato una cosa qua dentro Che non me la devi rubare Se la rubi sei morto Arriva nei rubi 2 Arriva nei rubi 5 secondi per lasciare Chi è questo col casco d'oro Ragazzi sono i rubi Ti do 5 secondi Non mi interessa Voglio morire Chi è questo? Ma chi è mazza? Vazzi ti uccidi No 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 Non mi che buona Perché hai visto? Oh, non fate il bordale Chi è Raffaele? Raffaele? Mi uccido Si sembra a pigliare l'arte Chi è? Chi è? Voglio vivuti Che c'è? Mi interessa Mi interessa Lo cazzo stai Ma poche ma che gomma No Si sparate anche voi però non fate una cortesia eh Avessi colpi Si sono rubato l'arma Ma come si carica stu cosa? Piano occhio a sparare Ma che cazzo è imballato tette cose? Vediamo Allora Arrivo qua sotto Ok È morto Salite sopra le macchine perché sennò vi prendono Ma Luca è morto dove c'era l'accampamento? Si Sì Dove c'era la base militare Dove abbiamo preso il fuoco Si 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 Che noi in questo istante si Si mi è lasciato pure la discord la vedo E lo sai che si è incazzato Ok Eh ok No Chi è quello con lo di ferro d'oro? Io Wait ti do 5 secondi per darmi il fucile di precisione Ma quale fucile di precisione? Io ce l'ho avuto da prima No No ma l'ho preso io Ma che cosa? Eh ma beh E gli agevis Tu hai venuto cazzo cazzo e te la pigliata? E mi hai fatto abbandonare? No vieni qua No No non lo tengo neanche neanche non lo so ci sa Frega solo che sti Vieni qua neanche no 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 Cani chi è che ci aveva fame la carne dei cani si può mangiare anche gruda eh Si? Ah si Cioè l'ho preso Cioè l'ho preso Cioè l'ho preso Cioè l'ho preso i cani e mangiateli Ma si Io Io Abbiamo incontrato uno con un quad Che mastro piatto E praticamente che cosa ha fatto questo io ero dietro lui è sceso all'improvviso me lo sono chiamato sotto però non è morto Ha uscito il cecchino eh Ho capito Adesso più o meno Come si chiama sta la carne questa dei cani e dei luke? Eh non mi ricordo Sultan Sultan E quindi era pure vicino a tu Eccola eccola qui eccola qui Raw Wolfsmith guarda qua su questo lupo qui Ok Mi manca per raggiungerci perché si sta facendo pure buio Io ti ho detto sono all'accampamento militare quello sul ponte se mi dici dove sei io vai Allora Ti guarda se tu esci vai su sulla strada che hai fatto per Sultan sei passato dal ponte o sei passato dalla strada tu per arrivare lì Ascoltami io sono dopo Budaven dove siamo andati dove è morto Luca Guarda ti vengo ti vengo incontro siamo a 50 metri l'uno all'altro Ok Però devi lottare per minuccia se no non... ok ok Io sono albidio Tu volessi iniziare a sentire la macchina? Esatto si Tu stavi a sinistra verso la città grande Eccomi Aspettiamo che... ok E Raffaele dov'è? Mi sto andando sta arrivando voglio Io sto sul posto Ok E con la macchina? C'è un quad di me forse Come? Se il quad è quello di prima Non lo so E ha un cecchino eh Si ok è il quad probabilmente Si si è sceso è sceso è sceso è sceso è sceso ragazzi Levatevi dalla strada Andrea levati dalla strada Si Ma noi che stiamo aspettando scusate ma Me è già levata No apriam 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 Rimani lì col furgone All'incrocio All'incrocio Vai a prendere lui sul ponte All'incrocio a sinistra Dai Ok Oh e io sto dietro Che è la mia mia stacca? Io io Rimate fermi col furgone Calminuccio Ciao Che al tezzo sei? Si tu C'è arrivato Ah si Eh metti la prossima Metti la prossima No Mi spegni spegni spegno Scusate salite 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 Andrea salite Hai dei colpi da 5 Hai dei colpi da 5 Oh E' apposta Sono morto Ma che hai sparato? Oh oh Mi ricu Scusami Eh tranquilli Sono morto Come hai fatto? Si è morto Tranquilli Vieni ma quale sei tu questo qua? No io no Tengo colpi No io no Tengo colpi Chi è che sta sparando? Chi è che sta sparando? Stai sparando quello di puttana Sì Perché Io ho sbagliato Io ho messo sotto a Carmianucci Stai arrivando uno Ecco il cutter Chi è il buggy? Il buggy il buggy è Davida Questo sono io Ragazzi se Se facciamo dietrofondo E questo lo ammazziamo E ora valutare ai due che si è fatto E appunto Andiamo 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 Vai 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 Come faccio a raggiungervi? Oh Andiamo Andiamo Fammi scelmi Fammi scelmi Aspetta scendi qua Vole Dov'è questo? Dov'è? Come faccio a raggiungervi adesso? No No ci sono entrambe ragazzi Ci sono entrambe aspetta Lo vedo dal ponte con la Con la Con il binocolo Da merda Dove cazzo sta? Lo sento sparare Ma non lo vedo Eccolo 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 là è Dove? Mannaggia Mo zombie ma accis Mo zombie ma accis È sul ponte vero? Sei di lui Sul ponte Senza dell'autobus Lo vedo Si lo vedi? C'è una zombie è morta E' la testa Ma sei noi Beh di che il tuo corpo è sparito la fai È lo sacco Non ce la faccio senza un'ottica cazzo a prenderlo da qui Poi c'è un'altra persona Ti posso mettere un'olografico Colografico ce la fai? Non lo posso montare su sto fugile Ok Io lo vedo Eh Sta sul ponte dietro il boom Quello dietro il boom Quello che lo trova Quello che lo trova Come fa a salvarlo? Ti lo trovo la posizione migliore Ti lo fai? 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 L'ho già accesa Ok l'ho visto aspetta Più o meno la balistica come hai visto con uno sparato a me un volpo? Ehm... Come quella di arma Cioè... Soffre... Soffre le cose Raffaele Aveva armi e cose Si è partito È partito In la base del ponte Sei andato Sei andato Sei andato Sei andato Sei andato Sei andato E' uscito E' uscito E' uscito Andato via L'ho visto partire quello con il quad a 2mila Buonanotte raga ciao 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 ah sono di nuovo a finecrest ma in questo momento non ho nulla non ho un'arma non ho uno zaino mi sa che per ora non ti possiamo venire a prendere allora ragazzi come state messi voi al ponte oh tutto bene si bisogna che almeno un altro mezzo di trasporto venga con me perchè io devo posare cioè poso la dip capito almeno questo c'è due bug eccolo coci emilio sto in macchina io ragazzi qua ci sono pistole qua c'è un bug da prendere come siete? mi prendi il bug si può prendere qualcosa da qua non c'è più niente non c'è più nulla? no raffaele l'avete lootato apposta prendete il cavo ragazzi il cavo ai chiosi il cavo qual è il cavo con i chiodi c'è scritto su i chiodi i chiodi prendete quelli perchè sono sono utili con dove c'è il bug? è lì dove c'è fuoristrata questa non l'ho capita mi si è doppiata sdoppiata un'arma? pazzesco ah io ho 11 di beberaggio se ci sia qualcuno che ah vai a vai a bere al fiume allora si io ho bevuto al fiume non è inquinato il fiume sento la macchina di va? si si sento la macchina di va? vai direzione cartello food heaven vabbè pronti è sul esatto è sull'erba ragazzi montiamo sui medi e andiamocene via si è fermato sui medi e andiamocene via su direzione si è fermato qua andiamo andiamo vai 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 quello vuole lutare nooo non ci credo non ci credo che succede? buttami 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 ok no vai 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 comunque questi mezzi sono delicolosi basta che tocchi un poco l'ammazziamo a carminuccio così l'ammazzata se l'ho detto fa malissimo sono malissimo di dietro in modo che non ci segua lo stronzo non è sulla montagna vabbè tu fai un po' di zicchizzacche però se vuoi fare pure un po' di campagna fallo non si può sparare dal mezzo no vero? no lo so si ma non è pub che trovi a tinghiet ci sta seguendo ancora lo sento il rumo hai ralentato un po' perchè io sto prendendo? si stiamo... ci stiamo rallentando vabbè vabbè tra ok ok adesso a sinistra ancora sinistra sinistra ok ok camminuccio dove ti trovi? sto cercando di riprendere che si venga a prendere a volo città non ci saranno fatti di l'ultimo sono esatto io infatti vedi casa l'ho fatta qui siamo arrivati potete costruire adiacentemente cioè dall'altra parte del bosco capito? ma quale città siamo? ma quale città siamo? mi servirà non l'ho fatto beneraggio con meno una lattina che sennò 5 per cento ah io non c'è non c'è l'ora tieni vieni davanti salta ok eh che città è questa mazza? ehm highway river sì io le mettiamo nella scossa ragazzi e poi andiamo nelle veicole aspetta eh allora attenzione ragazzi a camminare intorno alla base perché l'ho disseminata di trappole state attenti a dove mettete i piedi soprattutto vicino ai muri anche per noi che siamo lo stesso team allora poi vediamo un po' qua questa la mettiamo qua ma trappole queste visive no? ehm ehm trappole questa è quella tipo che sperano no? no 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 non si vedono non si vedono la sua è spegni il camion così non fa rumore ma per esempio chi è investito con la bacchina mannaggia v io io sono stato eh 15 perché uno s'angazza ah pure attento un vestito? ma sei morto? poco ci manca eh eh lo lasciano lì nella fareste il frugone raga come non c'è non lo sono asciugato così allora come non c'è l'asciugato aspetta che devo chiudere questa mi levo questo un secondo e questo un secondo e tiro su il muro che ho messo qua quindi ho postato sul muro ho messo a morire prendo curati mettiti prenditi le bende perché te l'ho detto non si vedono le trappole ho disseminato questo posto di trappole stai 0 20 kg buttiamo su questo ok poi questa la chiudiamo qua dove mi trovo quindi adesso con un mezzo di teniamo a prendere l'altri costruiscono dai posso riuscire a venire da solo no no io ti vengo a prendere così poi posso apprendere pure a a andrea gli oggetti che uno trova si possono salvare? no te li tieni te li tieni in inventario ma se muori hai perso tutto ok dobbiamo svuotare sto bug andrea dove sta? ma ogni volta devi trovare e rimettere muore mazza si perchè ancora non ho trovato il cancello ascolta ascolta mazza è il furgoncino e c'è il furgone su quanto quante posti è? oh sai sarà 4 posti penso 4-5 posti facciamo la prova saliamo vediamo quanti posti attenzione sempre a passare al raso dei muri eh io sono salito dai cazzo ci sono? io non ho ancora in culo ok cosa c'era un altro vado avanti vedi tutti dietro cioè si sta un po' perché perché ora svuotiamo questo qua vado a prendere loro 2 uno viene con me ne so compagnia adesso con marzo e così iniziamo a costruire va bene e ma mi sa altri tre posti non è prima è lasciato perdere perché qualcosa è inutile lento e sgamoso è incredibile a partecipare da protegge ma stiamo a vedere per entrare come facciamo adesso mi dovete invitare voi nel vostro caso infatti davide l'ambito aspetta perché c'era non ce n'avevo già uno e mi devo ricordare come di sbagliare devi fare clan e poi devi fare live clan a posto posto ok a posto allora svuotiamo i mezzi così ci portiamo il il fuoco non c'è più posto dentro devo essere sincero c'è le casse ma uno troviamo dietro il bug lo metto dietro accanto al coso devale aspetta oh madonna vi sono sotto che ho visto sotto che le piloti mi donnavi allora questo lo lascio qua spengo ok ah sì per svuotare il costo crudone allora devi piazzare il plot che avevi tu prima piazzalo tipo che ne so dall'altra parte tra gli alberi no oppure che ne so lo piazzi abbastanza non lo posso mettere perché sono 200 metri da te mazzaro l'amanzi ma c'è un piatto che io posso continuare a costruire quello tuo non lo so sai questo non lo so sì perché quando noi abbiamo costruito prima io ho messo e mi vediamo se non c'è 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 se senza sparare possiamo mettere un pezzo di qualcosa mi sa che lo posso c'è un po meglio 30 ascolta le casse possono essere solamente due a base io le mie le ho finite no allora se tu fai un altro plot guarda quel bosco laggiù tu fai due casse subito facciamo due casse subito svolgiamo i nazi e li vai a prendere capito io le casse subito no non ce l'ho più bugie bene facciamo se vogliono dire che vogliono farli maiusco facciamo oh ragazzi date una mano qua da andare a prendere ragazzi io prendi il plot e vediamo se te lo fa piazzare dall'altra parte ok andiamo eh ma con questo lavoro a te invece erano lupi verso della faccia retromarcia eh nel però con questo non puoi andare a prendere su due no non hai capito i mezzi sono pieni si devono svuotare non possiamo camminare i mezzi pieni ahhh vedi d'attimo se ti fa costruire qua eh quello non lo sa però un punto che non si veda magari dalla strada ah eh mi sa che qua già c'è vabbè qua vabbè oh lupi fermi lupi sta ciappone agendio io non c'è orto poi hanno fatto niente no tranquilli siamo armati no sono i mutanti no hai detto che non vuoi rumore non spari fermo 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 sono andati ok allora ci andiamo cercare di piazzare il plot ok tanto io cerco i lupi e gli sposa a posto ma è acqua sotto il piano ehm aspettate da prendere il legno e non ho spazio per prendere la roba è quello il problema eh ma io vediamo 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 che cosa serve per il il non me lo ricordo per le per le cose due fornitor planner e tre lamber allora qualcuno faccia i lamber ok ce l'ho accetta ce l'ho accetta anch'io ce l'ho accetta fate i lamber e io faccio i fornitor planner dai non ci sono accettate qua no ma con il coltello si fa no non è per me ho un piccone pure il piccone non grido servono no wood lo che quanto ne devo prendere pensa che due wood lo che fai un lamber quello che fai un lamber 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 un fumine panel fumine panel component storage due forni tour panel componenti componenti forni tour panel un wood log serve per fare i forni tour panel bene ok fatto poi e orange due ne servono e tre lamber ok facciamo un altro componenti forni tour panel uno subito la storage ok lo sto facendo uno l'ho fatto lo piazzo ovunque poi lo distruggiamo il large eh? ma hai fatto lo small o il large no solo quello posso fare solo uno è allora io ti sto facendo il large significa eh te l'ho detto i progetti dobbiamo adesso non ti preoccupare ok ottimo 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 l'ho piazzato qua tanto poi si può pure spostare diciamo si può spostare ho 10 di lamber la credo ok quelli adesso facciamo un garage per per le macchine dai intanto tu inizia a fare lambera ruota poi mi trova un po' spettacoli non c'è tanto spazio la roba a chi serve la roba c'ho delle spark plugs pure candela questo non mi serve allora qua prendi prendi questo che è che il pallone di casa qui ok in teoria è nil ah beh però falla tu che io devo andare a prendere ragazzi intanto piazza la cassa perché la puoi piazzare solo tu per adesso qui ho fatto questa dove sta? ah qua per terra qua qua ok ok poi c'è quella questa c'è 20 slot invece di 10 ok svuotiamo tutta la macchina ho trovato un gruppo di congenitali ho visto hai stato trovato tutto l'ambera aspetta si lo metto tutto qua dentro aspetta Ettore fammi svuotare svuotiamo il mezzo prima 4 5 dove sta la cassa? questa grande eccola qua fateci votare grazie 1 2 3 4 e 5 buttò un freno è meglio ma da prima sul ponte ma mi si è buggato il fucile ho dovuto buttarlo per terra eh si è vero ho perso il fucile a pompa automatico no ce l'hai ancora io lo vedo non so se mi sa si lo vedi però non è cioè in realtà non è vero che ce l'hai addirittura non mi vedo manco le armi Emilio andiamo a prendere il quello grande il furgone poi facciamo le poste ecco andiamo a pigliare ti 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 no eh non ti preoccupare non è niente Ettore si fatemi un garage per favore grande eh ok guarda che spavento non andare troppo sotto sta dentro come si guida il quad e aspettati posso trovare un po' di lamber cosa è questo ruolo? no non ti preoccupare è la stazione di polizia che sta dicendo che sta arrivando una tempesta radioattiva però non è vero che è radioattiva per adesso ancora non l'hanno aggiunto questo questo particolare se ti vuoi fare una cassa di lamber ogni tanto quando diventa tutto viola e si sente un elicottero uh 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 ma che è questo bordello? fuorrendo a me si è fatto tutto l'area di sabbio diciamo ma sai che cos'è questo cassino? una tempesta radioattiva però non è non ti preoccupare non non toglie vita solo a livello estetico sì esatto allora non possiamo fare una cassa per il lamber tipo levatevi raga ma devi votare anche questo sì è pieno fa il tempo loro fanno un garage 12 su 50 che così abbiamo dove nascondere le cose ah questo tamper è qua se lo volete levare levatelo io l'ho piazzato perché non lo dico cazzo di spavere ah toh allora questo lo possiamo mettere direttamente guarda la milevole armi le metto dentro un secondo così possiamo costruire questo lo possiamo mettere direttamente sul furgone il cavo se volete io non ho troppo riserva pure inizia a fare l'amber come se non ci fosse un domani eh sono pieno sono pieno mi odisse ah ah perché ne servono veramente tante se volete le drop inizia si guarda aspetta io questo via poi devo appoggiare altra roba qui dentro non vieni qui porco dio ma questa ma tu sai bene salvarsi da stata in piazza reddittiva poi uno come farà? no penso dovrai stare dentro casa tua ca puttana ma parlo gas quando ho nel gas in nel battle royale ah se non avete se non avete gli scarponi mettetevi gli scarponi di ferro lo buttati per terra perché vi coprono leggermente dalle trappole io ho protezione media i combat boots andiamo con me sono in questo mezzo ok ok 50% di fuel ok avete da mangiare qualcosa che sono al 16% adesso anch'io sto nella merda bisogna andare in città andiamo allora andiamo bisogna andare in città per forza aspetta salvo salite tutti dai non si vede una sega io devo andare a bere perché non ce la faccio più forse va vabbè vabbè adesso andiamo andiamo va bene dai io sono solo qui penso posso portarlo io che sto la strada da qua certo c'è voglia almeno facciamo prima dai che non si vede un cazzo sono a strada pom è pom contro l'albero quanto dobbiamo in nostra cazzata? quarterello 10 minuti in esa madonna il suo santo è in questa città c'è salute è mazza mazza mi senti? sì sì c'è salute in questa città sì 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 ah dici pure dove la stazione di polizia così poi in caso dipende da quanta gente c'è perché è un posto frequentato da molte persone ah grazie finita ma come si chiama questa città? almeno così loro se si vogliono avvicinare highway valley è una cosa del genere highway valley è la città più grande no? subito a sinistra c'è un centro commerciale piccolo questo è un supermercato pensate cercate il cibo dall'altra parte c'è un benzinaio e lo stesso vale per quello direi te lo dico siamo ancora 10 persone 5 siamo noi però ce ne sono altri 5 tra i quali un figlio di puttana che prima c'è quasi ammazzato uno stavo in giro a Braing Braimung 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 io non ho trovato niente qua dentro ah eccola qua bella bella fresca bella fresca bella fresca che parte della città ritrovo ma lo so lui ma di Braimung non ricorda di valli ero stato dove si vede ora ma anche quei valli è pure il l'amore siamo dove sta arrivando dall'altra parte tu perché se no se io sto volendo da Clyde diciamo ok stai a sinistra stai all'altra parte della città allora prosegui dovresti vedere sulla tua destra un modello vero un attimo dentro città no sono case piccole ancora stai lì stai ancora a Clyde non stai non stai ancora stai dalle parti mi è venuto welcome si sempre prosegui fino a che non arrivi al modello devo metterci e lo arrivo